Nasce dall'incontro di culture e genti diverse ed è espressione di un lirismo universale, nutrito di sentimenti eterni come malinconia, nostalgia, sensualità, passione, rabbia. È il tango ed è la testimonianza storica e culturale di un paese complesso come l'Argentina. Chi decide di incontrare questa danza viene condotto in un viaggio magico e al tempo stesso carico di passione. Ad Alessandria sono stati ballerini e musicisti della compagnia Buenos Aires Tango, ad evocare lo spirito delle milongas della capitale rioplatense. Melodie tradizionali eseguite dal vivo, grazie ad uno scambio continuo tra il corpo, la gestualità e la musica, hanno riportato il pubblico agli inizi del Novecento, quando proprio Buenos Aires raccoglieva molte nazionalità al suo interno. L'esibizione della nota compagnia di artisti è inserita all'interno della rassegna Acqui in palcoscenico, che quest'anno vede in cartellone spettacoli, oltre che nella cittadina termale, anche in alcuni centri delle province di Alessandria ed Asti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!